Manuel, partita davvero combattuta? Eh sì, oggi è stata una bella battaglia, qui il campo, i ragazzi, è andato tutto, affrontavamo una bella squadra, quindi l'intensità è stata alta, nessuna delle due squadre voleva perdere, sono stati bravi, tutti e due, per due le squadre. Ma poi i ragazzi sono impegnati? Impegnati tantissimo, sì, fortunatamente oggi abbiamo scelto questa struttura anzintetica per riuscire un attimino a preservare i campi, ma a garantire ai ragazzi una struttura, un impianto per poter giocare bene a pallone e sono contento, sono contento della prestazione, sono contento della partita. Perché hai costruito una squadra di pari livella? Perché chi è entrato non è sostituito? No, no, assolutamente, guarda, abbiamo la fortuna di avere tanti ragazzi, ma tanti ragazzi soprattutto livellati, non c'è mai disparità, insomma, come hai detto te, tra chi entra e chi esce, sempre stati concentrati tutti, si impegnano tutti da prima all'ultimo e c'è niente da dire di niente, sfrutto col tempo. E in campo seguono le tue indicazioni? Sì, sì, assolutamente, anche perché sennò... Sei proprio il loro punto di riferimento. Sì, no, poi, comunque insieme a Lorenzo, Luca, stiamo gestendo bene l'anno, secondo me, anche i ragazzi sono contenti, seguono. Grazie. Grazie a te.